ciao a tutti ragazzi bentornati con minecraft e il nostro pirata brut ok allora stavamo ricominciando a scavare qui a trovare un po di roba devo riuscire a scavare a trovare altre cose perché po 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 ferro legno ci stiamo trovato ferro mi serve oro un po d'oro un po di perché dovremmo fare questa cosa qui dov'è eccola qua questa vabbè la facciamo subito e questa oro e una pietra rossa che poi in teoria potrei farla anche magari in movimento in un futuro non troppo lontano perciò io direi che possiamo fermarci qui che sono affritta ma natale qua cercasse un posto dove andare è un posto per scavacchiare allora qui c'è il ferro qui c'è del ferro ci sta uno zombo sento uno zombie sento uno zombie da qualche parte c'è una caverna qua c'è una caverna muori creeper creeper anzi fai esplodi creeper esplodi esplodi bravissimo così mi uccidi questi zombie di merda che mi stanno sui coglioni ok andiamo giù oh oro ecco l'oro vedi cercavamo oro abbiamo trovato dell'oro una torcia qui pum ferro oro tutto qua sta tutto qua sta am vedi che figata abbiamo trovato tutto quello che ci serve questo cos'è? questo cos'è? cos'è? la pistolazzoli la pistolazzoli i cazzoli i sbrunzoli i stronfoli i strozzoli magari ne so robaccia non so a che serve però scopriremo eh intanto prendiamo tutto quest'oro guardate quanto oro c'è qui bello bellissimo 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 ferro oro metalli preziosi non è il ferro che c'è pure ho trovato una caverna dentro la caverna questa cosa è molto interessante ma ci prendiamo anche un po' di questi che ci servono 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 io non ho messo il timer come il mio solito maledetto infame schifoso comunque voglio fare dei video un po' più corti ragazzi perché sennò qui mi ci mette una vita a caricarli una notte intera non è normale sta cosa comunque vorrei sale lì chiudiamo aiutiamoci con i nostri amici amicicci i nostri amicicci ok vediamo un po' qua sopra che c'è uh sale proprio c'è proprio ecco la guardate come muoio eh ecco che il pirata se ne va a morire ma è proprio una caverna gigante questa cosa è molto interessante molto non c'è un tubo non c'è un tubo quindi andiamo via ma io di là ma come ci vado di là voglio andare di là scavo qui e poi un altro zombie scavo qua sento rumori di zombie siamo sotto acqua ok non posso farlo nemmeno che se chiudo mi scurisce tutto ma vedi che caverna gigante oh che cavolo schifoso infame schifoso infame schifoso creeper maledetto creeper maledetto e mori oh ah l'oro c'è dell'oro là sotto c'è l'oro voglio l'oro voglio io dov'è oh portaci tu hai questa stravaccona di tua madre oh non vedi la gente ma che è una festa ho capito eh dove era qua il buco per entrare ciao si si vieni 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 che ti spacco quelle ossa maledette che ti ritrovi creeper sta per esplodere creeper creeper è esploso guardate che buco ha fatto ma c'è carne di se stesso in mano quello oh mazza quanti seder rompe i scatolini eh no andiamo via sto per morire via 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 dove è il buco qua via 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 mi sto per fare sto per andare a fuoco via e mo seguitemi calava oh sto infame schifoso e mori oh devi da morire punto oh qua c'è una cosa che mi interessa ma ho capito perché non recuperava la vita comunque dov'è qui non vedi le frecce che c'è ho appiccicato addosso mi serve questo no troppi no non c'è bastoncini infame schifoso schifoso infame bastoncini po' di torce ok no che fai obuti che fai obuti eh questo serve questi servono questo serve questo serve questo serve sto all'altezza 14 mi sembra strano che non trovo la cosa lì la pietra rossa so che magari voi non vedete un tubo però mi libero subito ok eccoci qua tornati alla luce ok qui non c'è nulla o comunque pare che non c'è nulla quindi torniamo su qua è da dove sono venuto adesso ci schiaviamo scaviamo una salita eccola qui e torniamo a cucinare tutto il resto torniamo a cucinare tutto il resto il resto il resto il resto il resto il resto ah si qui dove sono sbucato devo salire qua madonna ho fatto il labirinto ho fatto mi sono auto chiuso comunque ora torniamo su a costruire qui e dai e dai ok oh questo lo posso togliere mi servono posso metterci questi ci metto due e ci metto oro cucinami dell'oro ragazzi abbiamo trovato un sacco d'oro anche del ferro dov'è la cesta ah non l'ho messa ecco qui mettiamo la cesta così ci mettiamo dentro tutti questi che non servono un tubo no questo non serve che devo cucinare questo questo via 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 no questo mi serve questo via questa via questo mettiamo qua questo mettiamo qua contrario poi basta questo demococe ok oro oro ovo 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 come l'ovo ok allora ragazzi qui stiamo andando bene sembra che sia fatto giorno quindi possiamo innanzitutto cominciare a costruire la nostra barcozza ci cominciamo a costruire la costruiamo la costruiamo la costruiamo la costruiamo qui qui che vedo che c'è un po di di che mi posso poggiare allora legno allora facciamo tre questo me lo levi grazie poi mettiamo uno qua 4 4 5 poi qua 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 e qua poi leviamo questi e ok poi continuiamo qua così 1 2 4 e 5 ok 6 5 sono pochi perché poi io farò qua se sono pochi no è giusto è giusto è giusto 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 questo me lo levi grazie e io devo fare uno qua 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 e qua questo me lo levi grazie questo anche che se no mi mi trovi ok 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 quindi devo ricominciare da qua 2 3 e qua porca miseria va bene tanto serve quello lì ok 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 quindi qui 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 e qui poi qui 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 e qui 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 e qui qui siamo quasi arrivati alla punta la voglio fare grande la voglio fare gigante gigantesca comunque cominciamo a accorciarci un po' così 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 ok poi facciamo qui qui oh ho finito il legno non c'è problema torniamo alla nostra cavernicola allora questi me li ho fatti tutti mettiamo un altro e mettiamo il ferro a cucinare poi il legno l'ho finito tutto e lo andiamo a scavare ok ok questo me ne serve un altro e che vuole se non ce la può fa mi sei incastrato mi sei perché miseria ok andiamo a prendere del legno vi dico del legname per favore grazie mi sa che ho sbagliato a mettere qualcosa qua ecco qui ok scavicchiamo scavicchi ma non apra poi ci serve anche un po' di oh albero un po' di sabbia per fare il vetro se non faccio il vetro se non faccio il vetro viene brutta la nave senza il vetro una nave senza vetro ok 40 assi andiamo a prendere quell'altro intanto piantiamo un alberello questo lo riprendiamo uno lo piantiamo qua e uno qua e uno qua ok e dai salta e su ok 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 dopo ho fatto questi dopo ho fatto la base della nave poi possiamo anche cominciare a muoverci perchè mi sono stufato che sto sempre qua mi sono un po' stufereggiato ok 64 più 24 buono 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 devo mangiare devo mangiare devo mangiare mela anche se potrei farla diventare d'oro la mela però e diventiamo comunque comunque ok ok adesso dobbiamo saltarne uno così poi ne dobbiamo mettere uno qua ok 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 ci sto no questo me lo devi togliere grazie qua 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 e che cacchio ok 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 sì giusto è giusto è giusto ok ragazzi andiamo a dormire dormire per modo di dormire oh la la giusto sì sì sta avvenendo bene me lo sento sta avvenendo bene me lo sento me lo sento dov'è il coso dov'è la terra mi scordo a rimettermi la terra sulle mani sulle mano ok ok ragazzi per oggi è tutto vi lascio questo piccolo episodio scusate se magari l'ho fatto troppo breve o troppo lungo non lo so però niente vi lascio con questo episodio e ci vediamo noi nella prossima puntata ciao a tutti